Ciao rivoluzionario, benvenuto di nuovo qua su Rivoluzione di Parole oggi volevo parlarvi di come fare una cover credibile poi magari alla fine del video parliamo invece di cover incredibili ma soprattutto perché è un periodo in cui ho ricominciato a suonare con la band e stiamo cercando di inserire appunto qualche cover credibile appunto nel nostro repertorio di brani originali mi chiedevo appunto quali fossero i parametri per fare una cover che spacchi e quindi ho detto perché non farne un video condividere queste idee con gli altri sembrava una buona idea e quindi eccomi qua ma partiamo subito allora prima cosa più fondamentale di tutte e dirò sempre cose ovvie però è la scelta del brano spesso e volentieri i brani vengono scelti in modo abbastanza arbitrario e questa scelta non viene condivisa con la band questo è un problema perché se non so si fa il brano scelto del cantante però al chitarrista non piace fa una volta più fatica anche a casa a studiarselo lo farà controvoglia e sicuramente la sua performance farà abbastanza schifo mentre se appunto tutti i componenti condividono una passione per una determinata canzone questo già sarà diciamo la metà dell'opera famoso quel famoso chi ben comincia la metà dell'opera ecco in questo caso si traduce proprio in questo quindi la prima roba da fare in assoluto è se sei solista ovviamente sai il cazzo che vuoi se hai una band ti ritrovi con tutti i componenti senza strumenti mi raccomando soprattutto i batteristi non fagli avere bacchette, cose, penne ai chitarristi togliergli le chitarre proprio in un po' dove nessuno può suonare è importante e mettetevi lì con un foglio scrivete ognuno le canzoni che ti piacerebbe suonare e le mettete tutte assieme a un certo punto si suppone che se siete una band assieme qualcosa in qualche gusto in comune lo possiate trovare una volta trovate le canzoni che piacciono a tutti o quasi tutti ovviamente non è sempre possibile scremate tutte le altre quindi abbiamo fatto una lista diciamo di mettiamo 5-6 pezzi potenziali che piacciono a tutti tra tutti questi pezzi che sono emersi dobbiamo andare a cercare quelli che sono facilmente cantabili per il cantante non che non siano impegnativi ma che siano cantati nell'originale a una tonalità simile a quella del cantante chiaramente si può sempre trasporre la canzone un tono sopra e un tono sotto però sarebbe meglio cominciare soprattutto all'inizio da un brano che è nella sua tonalità originale perché molto spesso la tonalità stessa è una ricerca artistica importante quindi prima di andare a cambiare una tonalità ci deve essere secondo me un buon motivo poi ognuno ovviamente fa quello che vuole tra le canzoni appunto facilmente cantabili dobbiamo capire quali ci rappresentano di più come testo perché sono canzoni che musicalmente sono meravigliose ma che magari non parlano di noi o che noi non avremmo mai scritto anche queste canzoni secondo me vanno assolutamente depennate e tolte bisogna trovare una canzone che abbia sì le caratteristiche di prima ma soprattutto che abbia un testo che ci rappresenta noi quando siamo lì a suonare non siamo lì semplicemente a riprodurre un suono siamo lì a dare un messaggio alle persone quindi è importante scegliere il messaggio che andiamo a dare normalmente incampante dovrebbe cercare di spiegare il testo se è lui che ovviamente è lo specialista dovrebbe spiegare il testo agli altri componenti cercare di coinvolgerli magari e farli riflettere sul testo questo è molto utile sembra veramente una cosa strana perché nella pratica vi assicuro che non si fa pochissime persone fanno questa cosa qui ma è davvero importante quindi ecco consiglio tra parentesi anche nelle prove che andate a fare prendetevi del tempo anche solo per chiacchierare di musica parlare di vostri gusti parlare di vostri miti e parlare di quello che vi piace questo vi farà trovare e capire meglio in generale con la band ma questo esula un po' dal video ma è la lingua lingua importantissima se sapete bene l'inglese bene se lo pronunciate bene bene ma dovete sapere ogni singola parola del testo perché una canzone cantata in un'altra lingua che non è più che corretta e pronunciata bene risulta ridicolo rovinerebbe qualsiasi performance anche se il gruppo magari suona da dio quindi molta attenzione anche a questo se voi cantanti sapete pronunciare e cantare bene l'inglese e sapete imparare perfettamente a memoria un testo fatelo però studiateci molto se no lasciate perdere il cantato in italiano che ci sono tanti bei brani chiaramente il repertorio si diminuisce parecchio in Italia purtroppo ma comunque ci sono tanti brani che potete senz'altro fare bene l'errore che succede sempre in tutte le cover è limitare la voce del cantante per noi cantanti l'errore numero uno e lo facciamo quasi sempre cioè se abbiamo un mito musicale, vocale in questo caso tendiamo sempre, ci fa sembrare più dei pappagalli secondo me che delle persone che stanno interpretando qualcosa questa è la mia opinione personale però a cercare col suo modo di interpretare quella sua tonalità, quella sua timbrica questo però il testo va interpretato e va cantato con la voce del cantante vi faccio un esempio per farvi capire cosa intendo io quando ero a Cinno cominciai a suonare la chitarra con dei pezzi di Ligabue e allora cantavo cercavo proprio di imitare ma senza accorgermi perché ti viene cantandolo sopra la registrazione e facevo tipo certe noti macchine calde dove ti porta decine quindi cercavo di imitare quella caldarnosità della voce del blu di Ligabue che non era la mia ovviamente soprattutto a 15 anni quindi invece adesso abbiamo 43 e la canterei molto più scanzone molto più normale cioè certe notti la strada non conta quello che conta è sentire così normale no? come la canterebbe chiunque e quindi ecco questo fa in modo che anche se la voce del coverizzante è sicuramente meno bella di quella dell'originale però risulta più espressiva, più credibile se ve la canto così capite che sono io che vi sto cantando questa canzone se ve la canto come la facevo prima si vede che sto scimmiottando Ligabue e questo mi rende un po' ridicolo secondo me quindi non imitate tirate fuori la vostra voce bella o brutta che sia ma la vostra questo non occorre solo saper bene il test e capirne bene il significato ma soprattutto anche mentre cantate lo dovete pensare il significato succede che appunto sembra ovvio ma invece in realtà per i cantanti ripetendo magari cento volte una canzone automatizziamo così tanto le parole che quasi succede che non si pensa al testo anche perché siamo impegnati a trovare l'emissione la melodia, il respiro e tutto quanto e invece è molto importante perché se noi cantiamo pensando le parole è quasi impossibile che stoniamo ma diamo appunto quella particolarità di interpretazione, di pronuncia che rende originale l'interpretazione e viceversa se noi cerchiamo di riprodurre il suono della parola senza pensare a cosa veramente significa molto spesso rischiamo di stonare perché in quel momento non siamo concentrati sul significato siamo come dire sembra che stiamo facendo un compito non so se vi è capitato da cantante a me è capitato molte volte per l'emozione per tante cose per paura magari che quel pezzo era difficile da cantare e così non penso più al testo che sto dicendo e sbaglio ma succede sempre così quando invece appunto sto sul pezzo e me ne frego di come viene a livello melodico a livello melodico di solito viene bene viene intonata o anche se non è esattamente intonata uguale comunque è espressiva e funziona cosa importantissima ragazzi l'ultima cosa ma forse tra le più importanti è che tutti i componenti della band devono fare attenzione a tutte le altre parti che non suonano loro come sappiamo appunto nelle band se va in sala prova vengono attacco al suo strumento cominciano tutti a suonare insieme è un gran burdel in realtà non può essere così se volete fare un pezzo fatto bene il chitarrista deve sapere cosa fa il basso deve sapere il testo deve sapere gli stacchi della batteria il batterista deve sapere altrettanto bene cosa fanno gli altri perché se no ragazzi non è una band ognuno suona per i cazzi suoi e appunto se non vi piace quella canzone dovete tornare alla fase 1 e dire no cambiamo canzone cambiamo ma se no ragazzi devi sentire la voce devi interessarti il testo devi interessarti anche gli altri aspetti che non sono il tuo semplice strumento se no ci stiamo a guardare quanto lungo eccoci ragazzi nuova take ha voluto partecipare anche la mia amicia vuole fare anche lei un po' la protagonista ma a parte questo adesso veniamo alle cover straordinarie ma prima se non hai ancora fatto iscriviti al canale campanellina se ti è piaciuto il contenuto metti un like che mi fa piacere ma soprattutto dimmi appunto quali sono le cover più belle secondo te e se ti ritrovi insomma nelle cose che ho detto dai così dicevamo le cover veramente incredibili straordinarie ho fatto una top 3 ce ne sono veramente tantissime come vi dicevo ditemi le vostre le mie sono al numero 3 senz'altro sui dreams degli Eurythmics rifatta da quel pazzo furioso che è Marilyn Manson nella sua versione metal dark dove secondo me il testo molto bello viene fuori ancora di più dell'originale ed è molto potente diciamo questo mio gusto estetico e quindi direi che è uno di quei casi in cui la cover è migliore dell'originale al numero 2 metterei di sicuro Personal Jesus dei Depeche Mode rifatta dal grandissimo Johnny Cash anche lì chiaramente il mio gusto musicale rock blues prevale senz'altro sul stile elettronico dei Depeche Mode ma anche in questo caso secondo me il testo risulta molto più incisivo e quindi mi sentirei di dire che in generale musicalmente anche questa è un miglioramento dell'originale questi sono punto cover come dicevamo incredibili ma il primo posto in assoluto metto senz'altro I Will Survive rifatta dai Cake la canzone originale di Gloria Gaynor è comunque bellissima è una canzone più dancehall però ecco nella versione originale almeno io personalmente non mi ero accorto di quanto era bello commovente questo testo proprio perché è cantato in modo così veloce e l'ambiente sonoro è così allegro e scanzonato che non ti viene da pensare magari non essendo inglese anche questo sicuramente ha influito molto che il testo fosse così bello i Cake rifacendolo molto più lento in una versione rock e soprattutto con una voce molto meno virtuosa dell'originale il testo è quasi parlato ma allo stesso tempo tenendo fede alle linee melodiche che sono state rese in modo secondo me incredibile dai Fiati per esempio hanno fatto veramente una cosa incredibile ci hanno fatto in modo che questo testo diventasse veramente più credibile dell'originale quindi è incredibile perché hanno reso ancora più credibile un originale quindi ecco secondo me è veramente un grande capolavoro detto questo ragazzi vi saluto e ci vediamo prossimamente ciao